Nuovo sciopero oggi dei lavoratori della panoramica di Chieti per i sindacati CGL, Faisa, Cisa e Lecisla. Non è più tollerabile quella che definiscono la paralisi dell'avvertenza e tagliano corto, basta promesse, nel sit-in sotto il comune del capoluogo teatino, Franco Rolandi, Filt CGL. Noi torniamo a chiedere il ripristino della contrattazione aziendale che l'azienda ha provveduto a togliere ai lavoratori ormai da oltre un anno, quindi da oltre un anno che i lavoratori hanno una penalizzazione importante sulla propria busta paga. Noi torniamo a chiedere, a sollecitare la politica, soprattutto quella di Chieti, affinché intervenga per risolvere questa avvertenza. Sappiamo che domani mattina c'è un'importante assise regionale dove potrebbe essere portato in discussione proprio la soluzione per i lavoratori della panoramica. Andrea Mascitti, Filt CGL, c'è ancora scarsità di personale, autobus pieni e sovralavoro? Purtroppo sì, perché a questa situazione si è aggiunta la riorganizzazione dell'esercizio con un ingente taglio di corse e come avete potuto già vedere sulla stampa ci sono stati casi di persone che sono rimaste a terra e la collettività teatina non merita questo. Nicola D'Angelo, RSA, la panoramica non si arrende. Ci auguriamo che il primo cittadino, l'assessore dei trasporti, ci scenda giù e venga a parlare con noi, perché non ne possiamo più, siamo stanchi, veniamo vessati in ogni modo e quindi abbiamo diffidato formalmente, unitamente a CGL e Faisa Cisal, il nostro datore di lavoro a mettere in atto questi turni. Purtroppo neanche questa iniziativa è andata a buon fine, quindi continueremo, l'unica maniera che abbiamo è quella di andare avanti e quella di continuare a protestare. Non ci fermeremo assolutamente qui e nel contempo ci auguriamo che la politica regionale faccia quello che ha promesso, perché abbiamo famiglie e siamo in grave difficoltà economica. Una delegazione degli 80 dipendenti della panoramica è stata ricevuta dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e al Settin hanno preso parte anche alcuni colleghi della TUA, l'azienda unica dei trasporti in segno di solidarietà, Massimo Masciangelo, RSA TUA. Quindi il minimo che potevamo fare è essere qui a sostegno dei colleghi della panoramica, perché da tempo stanno subendo delle vessazioni, sia a livello contrattuale che a livello anche umano. Quindi l'unica cosa che potevamo fare è essere qui a sostegno dei colleghi e saremo sempre a loro sostegno. Grazie.